Il terzo involucro si sfaldò subito dopo il distacco del terzo paracadute. Ormai non avevo più niente intorno a me, salvo la tuta potenziata e un uovo di materia plastica. Ero ancora legato con le cingli all'interno dell'abitacolo, impossibilitato a muovermi ed era ormai tempo di decidere dove e come sarei atterrato. Senza muovere le braccia non potevo, schiacciai con il pollice il tasto che attivava il calcolo della distanza dal suolo, che lessi sul quadrante luminoso posto all'interno del casco. Un senso di responsabilità sociale che va dal di là della famiglia o al massimo della tribù richiede fantasia, devozione, lealtà, tutte le virtù più alte che un uomo deve sviluppare autonomamente. Se gliele imporrete, finirà per rigettarle. Avanti scimioni, volete vivere in eterno? Con ogni probabilità molti di voi avranno riconosciuto qualche passo tratto da un romanzo noto, ovvero Fanteria dello spazio di Robert Hainlein. Abbiamo voluto dedicare questa puntata a 6 di Fantascientificas proprio a questo romanzo, che poi ha dato ispirazione a molti altri tipi di opere derivate, se vogliamo. Siamo qui per parlarne, siamo qui in tre, in tre Cavalleros, Paolo Bianchi, Omar Serafini e Massimo Nessanto. E poteva mancare il nostro prof, ovviamente. Siamo una sorta di getter team di Fantascientificas, come si suol dire, no? Quindi indossate le nostre... Ragazzi, questo è il primo team up, eh? Esatto. Vedremo come viene, eventualmente dopo sentiremo il feedback da parte dei nostri ascoltatori su se le è piaciuto questa, chiamiamolo esperimento, chiamiamolo sperimentazione, che è più bello, no? Quindi indossate le nostre tutte potenziate, che saranno oscure a chi di Fanteria dello spazio se conosce solo il film, ma del film parleremo dopo, direi di iniziare dall'opera originale di Robert Heinlein del 1959. Esattamente, che poi ha vinto il premio di Hugo nel 1960. Esattamente. Quindi è chiaro, si è subito piazzata, diciamo, in testa alla classifica, alle valutazioni, al premio di maggior valore del filone fantascientifico e ha aperto la strada, diciamo, è stato effettivamente uno dei primissimi, se non proprio il primo cronologicamente, uno dei primissimi romanzi a calcare l'accento su questa caratterizzazione militare, no? che viene spesso riferenziata anche come space opera militare perché contiene le caratteristiche della cosiddetta space opera, cioè quella del filone avventuroso, delle battaglie, degli scontri spesso tra imperi piuttosto che razze aliene e così via, e però lo fa dal punto di vista della vita militare, tanto è vero che appunto poi questo tipo di romanzi spesso viene esposto a critiche, no? Eh sì, forse questo è un romanzo in particolare in passato. Questo in particolare anche se poi invece quando lo si legge, no? Si scopre che in fondo non c'è affatto nel romanzo una, come dire, presentazione glorificatrice del concetto del militare in sé. Anzi, in effetti, Fanteria dello spazio è un romanzo che contiene moltissima, una grossa porzione di riflessioni direi addirittura proprio filosofiche, no? Si, il filosofico e il politico se mi concedi. Esatto, esatto, bravissimo, l'aggettivo che mi mancava era politiche, no? Cioè quelle che riguardano il modo in cui deve essere costruita la società, il ruolo che viene giocato dalle forze militari nel rapporto appunto tra civili, militari, concetto di difesa, ma anche concetto proprio di Stato, di nazione. E da questo punto di vista, io l'ho riletto in occasione del nostro Team Up, il romanzo che avevo letto tanti anni fa, devo dire appunto che effettivamente c'è veramente molto poco di glorificazione della guerra o del militare in sé, quanto piuttosto una decisa presa di posizione sul valore di certe cose, del sacrificio piuttosto, come il brano anche che leggevi tu Paolo, è proprio quello che in qualche maniera è una delle riflessioni di fondo, cioè dice in effetti, no? Il senso è, le cose vanno conquistate col sacrificio, col lavoro, con la fatica, altrimenti non hanno valore. Eh sì, è un po' un filo conduttore della, non dico la parte iniziale del libro, però diciamo, poi entrando più che altro nella trama si capisce un attimo anche chi sono i personaggi, da dove vengono certe riflessioni. Però questa in particolare era una delle riflessioni che io ho trovato più, non vorrei dire toccanti, ma... Illuminanti. Illuminanti, ecco bravo, hai trovato un aggettivo che si sposa esattamente con quello che intendevo dire. Entriamo un pochino più nella trama, perché poi la trama del libro, diciamo, è il punto di partenza, dal quale poi sono partite, come dicevo, tutte le opere derivate, però la trama in sé penso che meriti più che una scelta. Sì, anche se tutto sommato è abbastanza semplice la trama in sé, proprio perché il libro si estende soprattutto in termini poi di racconto di avventure e o di riflessioni. La trama è quella di una scelta da parte del protagonista che è un, si chiama Johnny Ricco e che, diciamo, è di famiglia benestante, è agiata e di conseguenza, diciamo, all'inizio del romanzo si trova di fronte alla classica situazione che un giovane ha davanti a sé, quel bivio tra seguire le orme, seguire la strada che è già stata costruita per lui dalla famiglia e quindi sostanzialmente di entrare nell'azienda del padre, di fare un percorso che lo conduce poi a prendere il posto del padre nella conduzione di questa che viene descritta come un ambito di benestante, di una situazione tutto sommato agiata e comoda all'interno di una società civile che lo consente, oppure l'alternativa è di imboccare la storia, la strada dell'avventura e in particolare in questo caso la strada del ruolamento in questa fanteria spaziale. Imbracciare il fucile. Ecco perché dicevo imbracciare. Qui, diciamo, appunto, parte subito, in realtà, questa riflessione sul ruolo, perché una delle cose che fu subito notata, che è stato oggetto di grossi dibattiti, è che nel romanzo online descrive una società nel quale il diritto di cittadinanza piena, in particolare il diritto di voto, non è un diritto che il cittadino ha per un fatto di nascita, ma è un diritto che si conquista attraverso un servizio che rende alla società e in particolare attraverso un servizio reso all'interno, appunto, dell'istituzione militare. Quindi la prima, diciamo, proprio problematica politico-filosofica, che stravolge un po' quella che invece è il filone normale con cui consideriamo le civiltà contemporanee avanzate, cioè quello che tu hai un diritto di cittadinanza in quanto sei nato, in quanto persona, e invece c'è questo sostenere del fatto che tu devi conquistartelo. questo diritto, c'è una prima parte del romanzo in cui c'è questa proprio descrizione di questo bivio che Johnny si trova ad esplorare. Se mi concedi, è proprio parte della società descritta in Fatteria dello Spazio, che è la federazione, appunto, che non voglio dire che è una dittatura, ma è una sorta di governo militare illuminato. Una oligarchia, diciamo. Sì, una oligarchia. Ma anche se è una oligarchia molto allargata, perché in realtà non c'è un limite fondamentalmente, no? Esatto, le libertà mi pare che erano estreme e tra l'altro bisogna anche sottolineare che il servizio che bisogna fare verso la federazione era del tutto volontario, nessuno obbligava a nessuno. Assolutamente volontario. Anzi, da un certo lato era anche in certi casi scoraggiato addirittura, perché praticamente facevano di tutto per, come dire, per cercare di lasciare a virgoletta casi poco convinti da quello che leggevo. Assolutamente, assolutamente. Cioè, viene descritta una società, se volete, in qualche misura autopistica, perché comunque descrive un mondo in cui alla persona viene comunque riconosciuta un'ampia libertà, una difesa di tutta una serie di diritti fondamentali, tranne quello sostanzialmente di votare e quindi poi di governare, di decidere. Perché si dice che quest'aspetto qui, questo della conduzione, delle scelte, delle decisioni politiche, quelle più rilevanti in termini delle strade che si percorrono, del modo in cui si gestiscono le sorse e così via, queste te le devi conquistare. Richiedeva appunto quella responsabilità di cui facevo cenno nella citazione. Lui a Heinlein descrive anche un'estrema apertura mentale rispetto a questo discorso di conquistarsi questo diritto, perché appunto dice anche che è possibile, nella società descritta appunto nel romanzo, che tu avendo fatto la scelta, poi magari se non hai le caratteristiche fisiche per fare il servizio militare nel senso pieno di fare il soldato e andare in prima linea, comunque la tua scelta libera di rendere un servizio alla comunità viene valorizzata perché vuoi trovare posto. Addirittura lui descrive il fatto che una possibilità è quella di offrirsi come cavia per l'alimentazione dei farmaci, che è effettivamente una cosa che letta oggi fa un po' rabbrividire e si capisce molto anche delle reazioni, cioè di chi poi leggendo Heinlein magari ha delle reazioni forti perché il discorso è molto provocatorio. Riagganciandosi rapidamente alla trama, se no finisce appunto che parliamo più delle problematiche che del romanzo stesso, di fatto quindi Johnny sceglie in maniera se volete anche un po' fortuita, sull'onda di un'emozione diciamo in particolare del fatto che si ritrova nel centro di reclutamento e lì trova la compagna più bella del corso di studi eccetera eccetera, comunque decide di arruolarsi. E qui parte una sezione del romanzo in cui si descrive, questa è una caratteristica abbastanza comune poi ai filoni, ai vari romanzi della cosiddetta spesa opera militare, si descrive la vita militare, quindi si descrive fondamentalmente l'esigenza della disciplina, l'esigenza di un addestramento spinto all'estremo ma non con lo scopo di umiliare o di spezzare la persona ma piuttosto di formarla, di educarla con dei metodi che all'inizio sembrano durissimi, che sembrano ingiustificati, che sembrano addirittura appunto violenti o prevaricatori della libertà e poi invece mano a mano si rivelano come dei metodi un po' diciamo educativi, un po' come quando i genitori si trovano nei confronti dei figli che non sono ancora in grado di capire certe cose e dover assumere degli atteggiamenti rigidi, ma in realtà poi in effetti sono anche molto preoccupati di quello che potrebbe accadere ai loro figli e così via. Qui chiaramente si potrebbe aprire una discussione piuttosto articolata, non lo facciamo, continuiamo nel racconto. Naturalmente superata la descrizione di questa fase di addestramento e quindi preparazione alla attività militare si entra nella fase di racconto un po' più avventuroso, in particolare c'è quella cosa che poi è stata ripresa nel film, l'incontro con una razza aliena e di conseguenza questo scontro con la razza aliena che ha delle caratteristiche certamente crude di violenza, ma che per esempio non ha tutte quelle connotazioni anche un po' semi-razzistiche, se mi consentite questo passaggio che poi si ritrova nel film, magari ne parliamo dopo. Ma poi al film ci arriviamo appunto. Una cosa a tutte e due, un'osservazione, non vi sembra che si può ardire e fare un parallelismo fa Full Metal Jacket e Fanterie dello Spazio. Il plot è esattamente in parallelo. C'era più il tema dell'alienazione però, era lì, forse quello diceva Max, diceva l'addestramento pur duro serviva a formare la persona, in Full Metal Jacket invece forse Kubrick esaltò più che altro l'aspetto alienante della vita militare. Questa è sicuramente un'osservazione interessante, ci sono due punti di vista speculari rispetto a questo discorso, cioè a chi vede nelle metodologie, nelle tecniche molto rigide di addestramento, nell'esigenza di una disciplina fortissima, di sacrifici fisici anche e psicologici molto forti, un percorso per forgiare la personalità e chi invece vede un abuso che tende a spezzare la personalità. Probabilmente come al solito c'è il problema che la metodologia in quanto tale, per esempio nel romanzo del line racconta descrive il modo in cui si educa un cucciolo, che è pure un passaggio molto vivido, in cui appunto spiega l'esigenza che in certi momenti rispetto a un animale, a un essere a cui tu comunque vuoi bene, però se non hai la capacità di dargli le giuste lezioni nei momenti giusti, di fatto non riesci a farlo crescere, non riesci ad educarlo. Questo è un concetto che io in buona misura condivido, naturalmente è connesso a questo concetto un grosso rischio, perché se poi l'educatore sbaglia o comunque non ha veramente a cuore la persona o non sa quando è il momento di fermarsi, certamente c'è poi il rischio di scivolare nell'altro, di perdere il controllo e di scivolare nell'alienazione. Interessante questo parallelismo. Il romanzo di fatto poi introdotto al tema dello scontro con la razza aliena insettoide, poi si sviluppa nel racconto di una serie di battaglie, poi ci siamo, ne hai fatto cenno tu Paolo all'inizio, un'altra cosa che percorre tutta la storia del romanzo è l'introduzione della tecnologia della tuta potenziata, che è una parte comunque importante. I romanzi di timeline in realtà spesso contengono lo sviluppo di un'idea tecnologica particolare che diventa un po' la chiave di volta della vittoria della sconfitta, della storia stessa. In questo caso la tuta potenziata, che pure in qualche misura è un archetipo della fantascienza, cioè quindi questo manufatto, questa macchina che però diventa parte integrante di fatto della persona. Una curiosità, perché non ricordo esattamente, tu hai una memoria storica, prendela bene Max. Assolutamente. Forse è proprio Highline che ha introdotto per la prima volta il concetto di tuta potenziata, forse mi sbaglio. Guarda, io non ho memoria di altri precedenti di tipo tuta potenziata, di altri romanzi storici cronologicamente precedenti, però come dicevo prima la memoria fa acqua da tutte le parti, possiamo fare un approfondimento bibliografico in cui facciamo un appendice sulle tute potenziate. Poi ci arriverò quando parlerò delle opere derivate che ho un attimino approfondite io, però tutti facevano riferimento al romanzo, non ho trovato riferimento ad altro, quindi abbastanza... Sì, sì, sono abbastanza d'accordo con te. Concludo, quindi abbiamo, diciamo, di fatto la storia finisce così, cioè finisce con la descrizione di una serie di battaglie, c'è poi la relazione con il padre che all'inizio si era opposto all'arruolamento e che poi invece di fronte alla guerra che scoppia con la razza aliena si arruola a sua volta e se non ricordo male e diventa, diciamo, presta servizio... Sì, nel suo stesso alla fine... Sì, sta diciamo obbligata, comandata dal figlio, perché qui diciamo c'è questa descrizione, anche questo è un tema che in online torna spesso, del rapporto padre-figlio che viene illuminato da vari punti di vista, sia positivo che negativo, in questo caso positivo, per esempio in storia di Farnham invece c'è un rapporto molto negativo tra padre e figlio, non so se vi ricordate quest'altro romanzo, e concludo per dire che a partire da questo romanzo appunto che abbiamo raccontato e descritto, poi diciamo si ritrovano tantissimi autori importanti che hanno in qualche modo ripreso e portato anche, sviluppato sotto forma anche di serie, spesso questo concetto dell'appartenenza a un corpo militare con tutto quello che ne deriva, inserito nel contesto di avventure di carattere spaziale. Cido velocissimamente il ciclo di Miles Vorkosigan della Bujold, il ciclo dei Dorsai di Gordon Dixon, il ciclo di Honor Harrington di David Weber, ognuno dei quali contiene dei romanzi veramente interessanti e molto belli e tutti sono connotati da questo spirito di appartenenza alla vita militare, questo senso della disciplina, questo senso della possibilità dell'essere umano di raggiungere dei risultati nel confronto per esempio con le razze aliene e anche sulla base di questa capacità di tenere dietro valori come l'onore, il sacrificio e così via. Non voglio darti l'approfondimento e divagazione però ho letto da qualche parte che Aldeman, Joe Aldeman, il famoso autore di Guerra Eterna, scrisse quel romanzo quasi in risposta, in tono polemico, nel senso che lui sottolineò altri aspetti forse un pochino più psicologici e forse più vicini a quell'alienazione della quale parlavo prima. Sì c'è una visione negativa, in Guerra Eterna si vede una visione negativa del concetto che si è portato all'estremo del militare ma qui potremmo citare veramente decine e decine di cose bellissime che vi state facendo venire in mente, quindi invece no, mi riferisco Paolo tu hai detto per esempio che hai fatto una raccolta di spunti, di opere conseguenti o collaterali che potresti cominciare a presentarci. Guarda, è l'ultima cosa che abbiamo in scaletta per oggi, io direi la parentesi letteraria se siete d'accordo la chiudiamo qua con la citazione dell'ultima edizione di Starship Trooper che è uscita con la piccola biblioteca Oscar della Mondadori nel 2008 e lasceremo riferimenti poi nelle note, mentre la prima edizione è uno storico Urania del 62, il 276 per la precisione, quindi è lui, è lui, io ero nato da soli due anni altrimenti lo avrei senz'altro nella mia vita, ho cominciato nel 69 a comprare, quindi ti manca proprio il pezzo storico del quale stiamo parlando. Bene, una piccola pausa e poi direi di partire con le opere derivate a partire dal film. Grazie, what's going on? War! We're going to war! Now the youth of tomorrow must travel across the stars to defend our world. We are a generation commanded by faith to defend humankind. Everyone fights, no one quits. We are going in with first wave! You smash the entire area! You kill anything that has more than two legs, you get me? We get you smashed! But they will face an enemy more devastating than any ever imagined. It's coming! It's coming! Mayday, mayday, this is Roughneck 20. We're under attack, sir. We need retrieval now. I made a damn mistake. The Bugs Land Trap for us, didn't they? Prepare for battle and journey to the front lines of the next frontier. Come on! Starship Troopers. Ok, ovviamente quello che abbiamo ascoltato era l'audio del trailer originale di Starship Trooper nel 1997, regia di Paul Verhoeven, già noto regista di Atto di Forza e del celebre Robocop, al quale forse dedicheremo qualcosa anche in futuro perché ci sono rumors anche in questo senso. E premettiamo che non saremo clementi. Esatto. Chi vuole iniziare le danze? No, ma d'altro canto Inline ce lo insegna. Certi diritti bisogna conquistarsene. Bravo! Chi inizia le danze? Dunque, diciamo che purtroppo la trasposizione in immagini, in movimento di Franteria dello Spazio è stata secondo me una delle cose più travagliate e incompiute che si siano mai viste. Non so se concordate con me. Nel senso che era una trama letteralmente perfetta, un plot perfetto, vi parlo del romanzo, che poteva essere tranquillamente portato in rapporto uno a uno sul piccolo e grande schermo. Purtroppo non è mai per una serie di motivi avvenuto così. Allora, le prime avvisaglie, diciamo, sono state nell'88. Infatti già nell'88 era praticamente uscito in Giappone prodotto dalla Sunrise, che per intenderci la casa produttrice di Titan 3, di Zambo 3 e buon ultimo Gundam. Quindi era un accidente, è vero, addirittura. Al quale, fra parentesi, Gundam deve molto a Franteria dello Spazio, proprio per ammissione di Tomino, praticamente. Erano usciti questi sei, per intenderci, sei OAV, se dici in termini tecnico, super puntate, di questo anime che si intitolava Ucciono Sensi, che letteralmente vuol dire soldati dello spazio. Attualmente, nel fandom, questa versione viene considerata, attualmente, la più fedele al romanzo di Hellen, per intenderci. La trama parla, ovviamente, di John Rico, che in questo caso, invece che filippino, diventa praticamente un argentino di origini europee, per intenderci. E da lì comincerò. Esatto, che la cosa poi, tra l'altro, è forte, perché, nonostante tutto questo qui, si ricollega direttamente alla pellicola del 97, fra parentesi. Eh sì. Ecco. Scusate, salto un attimino, perché proprio per far capire le differenze, per cui cosa succede? Qui, la cosa bella è che, prima di tutto, compaiono, finalmente, le famose tutte potenziate, per intenderci. L'unica cosa che, come dire, va un pochino fuori dagli schemi, sono assolutamente due. La prima, per intenderci, il fatto che gli antagonisti, cioè i pseudoracnidi, che ricordiamo che erano una sorta di razza di umanoidi ragnizzati, passatemi il termine, perché non me ne vengono altri, che peraltro erano anche dotati di tecnologia, per cui, a loro volta, avevano astronavi, a loro volta avevano armi letali, anche a raggi, a energia, per intenderci. Era una razza intelligente, con un'struttura d'alveare, diciamo, simile agli insetti, o se volete, tipo Borg, per intenderci. Cioè, volevo tirare l'imballo, però, per esempio, l'idea potrebbe essere quella. La collettività. La collettività, sì. Un po' come si intuisce dal libro, comunque. Ancora una gerarchia, sì, molto simile a quella, appunto, di alcuni tipi di insetti, con ruoli specializzati, il soldato, il… Sì, infatti, c'erano gli operai, gli soldati, le regine… E il cervello, esattamente. Lì, invece, nell'anime giapponese, praticamente, ci sono questa, chiamiamoli, fondamentalmente era una sorta di poliponi, per intenderci, dotati di armi biologiche, nel senso che, apparentemente, sputtavano una sorta di sostanza piccicosa, esplosiva, e non si sa il perché attaccano la Terra, non si sa le loro intenzioni, non si conosce niente di loro, resta, ovviamente, tutto molto sul vago. E, in effetti, anche qua, a Loava, sui sei episodi, ripercorre pian piano un po' la storia, del plot del romanzo di High Line. Il dramma, poi, avviene, poi, ahimè, nel 97, quando esce la famigerata, diciamo, il famigerata a pellicoli di Verhoeven, per intenderci, dove, secondo me, è stata fatta un'opera, passatemi il termine, anche se molto crudo, di macellazione mediatica del romanzo. Sì, hanno svuotato completamente il romanzo del suo significato. Gli hanno tolto tutto, gli hanno lasciato solamente, peraltro, con una, appunto, veramente lì si vuole una forzatura militarista e con un'accentazione razzista, no, nei confronti di questo, di questa battaglia tra gli uomini e questi animali cattivi. Ci sono alcune scene veramente imbarazzanti, quelle della ricerca, quando alla fine del film, no? Sì, infatti, volevo dire, molto crude, molto. Cioè, tira fuori, vabbè, Verhoeven c'ha questo, no? C'ha questa impronta molto cruda, iperrealistica, fino al limite dell'eccesso, che però, in altre sue opere, io devo dire, non lo amo molto, anche se Atto di Forza, per esempio, è un film che mi piace. No, io apprezzo anche Robocop, non mi piace proprio. Robocop, no, l'ho apprezzato. Ci mancherebbe, però qui, in Fenderia dello Spazio, veramente, non si è capito che gli era venuto in mente. Ma, prima di tutto, diciamo che la cosa lampante, se volete, per i puristi del romando, spariscono quelle che sono le tute potenziate. In effetti, i fanti diventano proprio dei fanti molto simili a quelli dei giorni nostri. Che c'è solo qualche fucile. Esatto. Poi, gli aracnidi diventano proprio degli insetti a tutti gli effetti, per cui dotati di armi naturali, di artigli, speroni. Carpance, tutt'ora. Esatto. Apparentemente, senza nessun, diciamo, con attacchi, sì, guidati da un'intelligenza di fondo, ma se volete abbastanza caotici e si basavano più che altro sul numero. Sulla quantità, sì. Ecco. Poi, diciamo, si inventano... Poi scompare completamente proprio qualunque tipo di riflessione filosofica. Sta molto sullo sfondo diluita in quantità omiopatica, diciamo, giusto per fare un parallelismo scientifico. Si inventano una storia d'amore inesistente fra Gio'Enrico e la prente e la Carmencite Banitz, per intenderci che... Era solo accennata vagamente. Esatto. Scusate, qui mi tocca dirlo, però è l'interpretata del... Denise Richards, che è una mia passione, però... Mamma mia, che bella ragazza, effettivamente. È veramente una gran bella ragazza, devo dire la verità. Peccato, guarda, fare queste cose... Sì, poi non è che ha fatto filmoni, diciamolo, manco Casper Bondine, voglio dire. E poi si inventano questa, praticamente invece, storia d'amore fra Dizzi Florez, che nel romanzo è un uomo che peraltro muore nelle prime pagine. Lì invece diventa una donna e, fra parentesi, fa la classica compagna di scuola che è la innamorata non corrisposta di Gianrico, fra parentesi la stessa attrice che era là... Adesso non mi ricordo l'attrice che era là... Ha fatto parecchi film... Sì, fra parentesi ha avuto una storia, una love story durante la... La lavorazione del film... La lavorazione del film... La lavorazione del film, esatto, con Casper Vardien, praticamente. Pure, non lo sapevo. Beh, almeno loro si sarebbero divertiti. Fa parentesi, poi venivano continuamente richiamate da Vernover perché non si presentavano in orario per ovvi motivi sul set, e qui mi fermo per intenderci. Morale della favola, il film è molto sopra le righe, molto, in effetti, diciamo, non bello, e tra l'altro quello che certe scelte sono state giustificate, discorso delle tutte potenziate perché non c'erano i mezzi per farle, non so. E poi tra l'altro, come accennavi te, vero Paolo, c'è stata anche proprio una missione diretta di Verhover che diceva che lui fondamentalmente, frontiere dello spazio, non piaceva. No, praticamente... Ma non l'aveva anche letto. No, non aveva finito di leggerlo. C'è una dichiarazione che è sua, non ho mai finito di leggerlo. Proprio un po' il gramma di quelli... Diciamo, facciamo un escursus veloce, subito dopo questo film parte una serie animata in computer graphics che si intolava Rockness Starship Troopers Chronicles, che in Italia è stata solamente distribuita nel mercato home, per cui su DVD, tra l'altro prodotta lo stesso Vanover, con una trama, un filino, ma letteralmente un filino più aderente al romanzo, anche perché così almeno lì c'erano proprio il mezzo animato permetteva di fare un pochino più di cose. Però diciamo, grosso modo stiamo nella stessa... Viene proprio una racconta, per intenderci, le avventure del Plotone di Rico, completamente slegate dal film, che fa le varie campagne, però ovviamente viene troncata lì perché per problemi di scarso successo viene troncata dopo, mi pare la bellezza di... dopo 36 episodi viene troncata perché non faceva più successo, per intenderci. A lì arriviamo, ahimè, agli ultimi due film, per cui praticamente parliamo di quello che era Starship 2, eroi della federazione, che peraltro è uscito solamente per il mercato on video, che sinceramente non si collega, diciamo abbastanza slegato, chiamiamola se si può chiamare continuity, era più che altro il classico... io l'ho considerato una sorta di splatter, può ricordare molto vagamente Alien e molto splatter, parla di questi insetti cervello che prendono il controllo degli umani, per cui la classica, passate il termine, sindrome americana post 11 settembre, per cui praticamente il fatto che non ci si può mai finire del vicino, il nemico in casa, eccetera. E arriviamo a quello che è il terzo, per intenderci, che è l'arma segreta, anche lui uscito solamente per il mercato on video, dove che si ricollega invece direttamente al primo episodio. Qui ritroviamo John Rico, colonnello, tra l'altro ha qui una serie di vicistudio e passa sotto la corte marziale, ma il bello di questo, diciamo, di film qui che finalmente allunga... Jolene Bleyhock Esatto, beh, a parte la Jolene Bleyhock, la mitica T-Paul per intenderci... Esatto, anche lei è una bella ragazza... Anche se devo dire che la Merton Patterson, che era quella che faceva la Holly Little, quella che dopo converte tutti alla religione, non era niente male neanche lei, per cui praticamente quello che però compaiono in fondo sono le famose tutte potenziate che qui praticamente compaiono in fondo, proprio una breve apparizione però ci sono. Tutto questo film, soprattutto il terzo, è molto anche lui sopra le righe, però molto comico, diciamo Paolo, potrebbe passare come abbastanza sopra le righe, ma in senso molto surreale, molto comico. Sì, a parte una computer grafica che devo definire imbarazzante... Eh, ma lì era il discorso che era low cost, come si suol dire, a livello di investimento, di conseguenza era volutamente, cioè volutamente, si vedeva fisicamente, visivamente, pardon, che era veramente a basso pello. Diciamo che approfondendo un attimo quella che è la filmografia di Paul Verhoeven, ho trovato una citazione che rende abbastanza l'idea di quello che vuoi dire, che è la regola delle 3B di Verhoeven, non so se l'avete mai... No, no, così. Praticamente è blood, boobs, ovvero death, detto in maniera brutale, e l'altro bad guy su una roba del genere, o comunque diciamo tre aspetti che Verhoeven mette veramente in ogni film nel quale... Tre caratteristiche, diciamo così. Da basic instincts in avanti, cioè, è proprio... Dai, veramente devo dire su, appunto, far vedere lo spazio, c'è proprio... E arriviamo al giorno... Distrutto. No, no, ma veramente, arriviamo ai giorni d'oggi, ai giorni nostri, dove c'è questo, praticamente, annuncio di questo film che dovrebbe uscire, apparentemente, fine 2012, prima 2013, che è Starship Trooper Invasion, si intitola, completamente... Allora, promette bene. Sì. Completamente computer grafica, che praticamente, come dire, fa piazza pulita dei, chiamiamoli due, più la serie animata, e si ricollega direttamente al primo. Anche qui, però, ragazzi, scordiamoci le tutte potenziate, perché anche qui non ci saranno, per intenso, per cui, ahimè... Ecco, si è parlato di un possibile remake, ma tutte le classiche voci di corridoio... Insomma, è un sogno perenne di Fantascientificast, quello di avere film decenti tratti esattamente dalla trama dei romanzi. Eh, vabbè, rimarrà un sogno nel cassetto del nostro. Il sogno, ma speriamo, potessi che qualcuno... No, ma io, come ripeto, ragazzi, secondo me era... è un romanzo perfetto per portarlo uno a uno in cinema. Purtroppo, non so, per una serie di motivi e di scelte, ne hanno fatti... hanno fatto praticamente una serie di cose, di opere, secondo me, mediamente mediocri. Passatemi il gioco di parole a questo punto. Sì, sì, veramente... Mi permettete di citare... Scusa, Paolo, ti ho interrotto. No, no, vai tranquillo, perché avrei comunque entrato la terza parte. Mi permettete di citare un romanzo che poi ha dato vita a una serie che, diciamo, se uno racconta la trama per sommi capi e ha una somiglianza imbarzante con Fanteria dello Spazio, che è il ciclo di Ender, no? In cui c'è esattamente tutto, quello di Orson Scott Card, dico. Il gioco di Ender, non conoscete il gioco di Ender. Hai me chiedovenia, prof, ma... Ragazzi, questo è un capolavoro assoluto della contescenza più recente, che ha poi dato vita a una serie, sono quattro romanzi, ma il primo, come trama, è assolutamente la somiglianza imbarazzante, perché c'è una razza insettoide che, appunto, è organizzata esattamente nello stesso modo con le regine, con l'organizzazione generale di cui parlavamo, che attacca la terra e poi c'è una risposta militare e c'è un protagonista che però è un bambino, Ender, ha 11 anni, che viene inserito nel contesto di una rigidissima formazione militare, perché lui è l'unica speranza di poter poi controbattere questo attacco da parte della razza insettoide. Raccontato così è praticamente identico. Scusa, l'autore? Orson Scott Card, molto famoso, molto bello, peraltro devo dire, l'ho scritto in maniera meravigliosa. Direi che magari Max lo approfondiremo in una delle prossime puntate. Assolutamente, perché merita tranquillamente un intervento specifico, però l'ho citato proprio per dire veramente l'influsso di Fanteria dello Spazio, come si è ramificato e sviluppato in tantissime altre serie di romanzi che veramente poi hanno lasciato il segno, insomma, nella storia in generale della fantascienza. E oltre ai romanzi, e qui introduco la terza parte di questo nostro team up di oggi, ha influenzato gran parte o comunque molte altre opere derivate, in particolare il mondo del gaming. E qui, ancora un piccolo stacco e poi riprendiamo il filo del discorso. E qui, ancora un piccolo stacco e poi riprendiamo il discorso. E qui, ancora un piccolo stacco e poi riprendiamo il discorso. E veniamo all'ultima parte di questo nostro team up su Starship Trooper parlando di opere derivate, in particolare di opere videoludiche. Allora, tracce di Henlein, di Starship Trooper, in parte tratto da tematiche del libro, in parte tratto da tematiche del film, le troviamo in parecchi videogiochi. Diciamo che ne ho individuate i giochi. Ne ho individuate tre. A livello cronologico, diciamo che a livello di gaming, il primo gioco che fa riferimento alle tute potenziate è il famoso Warhammer 40,000, che è un gioco di ruolo, un gioco da tavolo, pubblicato la prima volta nel 1987. Qui la trama, forse non so se qualcuno di voi lo conosce o ci ha giocato. No, di fama lo conosco io, personalmente. Io ci ho giocato un po', sì, ma comunque è la classica rama del gioco di ruolo con un'organizzazione, no, in, se non ricordo male, parafeudale sostanzialmente, con dei gruppi che si sfidano. Diciamo che è molto, 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 più fantasy che non fanta scientifica. Diciamo che la fantascienza è solo l'ambientazione. L'altro, quello classico, portata, diciamo, in un contesto un po' più fantascientifico. Però qua, a parte il discorso delle tute potenziate, ripeto, la trama è tutt'altro. Sempre a livello cronologico, invece, parliamo di qualcosa che ha tratto a piene mani, in particolare dal film, e parliamo di un gioco che ha fatto a scuola. L'abbiamo introdotto già con il breve stacco musicale che abbiamo fatto, e sto parlando ovviamente del gioco della Blizzard Entertainment StarCraft del 1998, gioco di strategie in tempo reale. Alzi la mano a chi di voi ci ha giocato? Nessuno? Non in troppi, eh? Vi fate preoccupare, sono un videogiocatore troppo... Devo dire, mi è scappato questo. Questo è un grave, finalmente posso dirlo anch'io. Questa è una grave mancanza, Max. Qualcosa che posso provare a giocarlo ancora. Diciamo che, oltre al discorso delle tute potenziate, StarCraft reprende anche molti altri concetti che avevamo visto, in particolare nel film. A parte questa società molto militarista che era stata accennata da Veroven... accennata, diciamo, descritte in maniera anche fin troppo esorsti. Scantelata, esatto. Sì, però col Black Decker. Col Black Decker, esatto. Dicevo, oltre alla società molto violenta e militarista, qui c'è anche un discorso proprio di antagonista che, guarda caso, una razza di insettoidi semi-intelligenti governati da un cervello centrale. Eh, che fantasia. Una delle costanti diverse, diciamo questa. Diciamo che la particolarità è anche quella, vabbè, di aver forse preso un pochino di più ispirazione dal libro per quanto riguarda le tecnologie di scritte. È un pochino meno, diciamo, banale. A parte la tutta potenziata c'è anche il drop che viene citato più volte nel libro, il famoso uovo che è citato tu all'inizio, Max. E le capacità psioniche, diciamo che forse sono accennate nel libro, no? Mi confondo. Sì, sono veramente accennatissime, tra l'altro poi in maniera molto velata. È solamente nel film di Veroven che vengono un pochino più tirate a galla, per intenderci. Diciamo, la caratteristica fondamentale di questo gioco è l'azione frenetica sicuramente, ma una trama che pur traendo a piene mani da qualcosa di già visto, ripeto, il film, introduce degli aspetti anche innovativi e abbastanza avvincenti. Ad esempio una terza razza, una terza razza di psionici avanzatissimi, i Protos, che hanno un ruolo chiave in una guerra galattica che vede contrapposti umani e insetti. E poi, diciamo, questo videogioco ha avuto un seguito nel 2009, Starcraft 2, del quale è uscito il primo capitolo, che riprende la storia e forse, ripeto, forse la rende meno banale, un pochino più originale rispetto al primo videogioco, che forse traeva un po' troppo dal film che abbiamo demolito poco fa. Ha avuto anche un seguito, e nel seguito forse questa somiglianza con i film viene ancora più rimarcata. Diciamo che i terrestri del titolo originale erano eredi di un gruppo di galeotti, fondamentalmente sparati via dalla Terra, e poi hanno fondato una confederazione per conto loro. i terrestri, i veri e propri, tornano nell'espansione del primo videogioco come direttorato della Terra Unita, che è praticamente una specie di dittatura globale, della quale forse avete già sentito parlare nei minuti precedenti in questo podcast. Un videogioco sicuramente da provare, ripeto, forse è il risultato più famoso, un pochino più apprezzato dai fan per l'azione frenetica e la complessità, e il fatto che comunque si tratta di un videogioco molto avvincente, che non per la storia in sé. Però Starcraft 2 diciamo che promette bene, introduce degli elementi di novità abbastanza apprezzabili. E il terzo videogioco, ma anche qui è un breve accenno, è in Mass Effect. Diciamo il protagonista è un militare, un militare dotato di tutta potenziata anche in questo caso, poi però la trama di Mass Effect, Max tu sei un esperto, correggimi se sbaglio, è un po' un patchwork di... Si si diverge completamente, anche se si deve dire che comunque nei tre capitoli ritorna sempre questo spirito di squadra, queste relazioni forti del gruppo di combattenti che in qualche misura sono chiaramente riconducibili a quella che poi è l'impostazione del romanzo originale. Insomma questo c'è sempre effettivamente. Diciamo che è appena un cenno poi questi videogiochi, magari li approfondiremo nelle prossime puntate di Fantascientificas. Comunque Mass Effect, giusto per dare un attimo la cornice alla cosa, è proprio, l'ho definito prima, un patchwork di tante cose tratte da varie opere fantascientifiche. Assolutamente, un cocktail, un cocktail ben fatto. Un'integrazione fortunata di tutta una serie di emocibi, o emocibole archetipi della fantascienza. E invece, facciamo un accenno prima, e in questa piccola pausa ne abbiamo parlato, forse merita un pochettino di approfondimento in più un'opera derivata che poi ha avuto una vita propria e una fortuna propria. E stiamo parlando di Mobile Suit Gundam. Sì, diciamo poi ovviamente con la promessa ai nostri ascoltatori che Gundam non lo vogliamo esaurire in questa puntata, ma l'universo di Gundam meriterebbe ben più di una sorta di enciclopedia di puntate, perché è un universo veramente variegato e complesso. Direi che effettivamente, proprio come dicevamo all'inizio, proprio su la missione di Tomino, che è il creatore di Gundam, Gundam deve moltissimo a Fantere dello Spazio, a Starship Trooper. Prima di tutto, per la prima volta, si vedono questi, diciamo, contrapposti il concetto di real robot ai super robot nagagliani. Per cui il robot viene visto come non un qualche cosa di invincibile, dotato quasi di vita propria, nonostante avesse un pilota all'interno. Viene visto come un mezzo alla stessa stregua, né più né meno che un cararmato. Per cui per esempio il fatto che finiscono le munizioni, all'inizio ci sono difficoltà, chi si ricorda, a Muro Rei, in Italia Peter Rei, all'inizio che prende il libretto di istruzioni per capire come funziona il Gundam. Cioè lì eravamo abituati al, per intenderci, non dico al Koji Kabuto, però al pilota bambino, di turno o il pilota di turno che saliva la prima volta sul robot e sapeva già pilotare alla perfezione. Con due leve era in grado di… In più, viene visto proprio questo lato, passatemi il termine, sporco della guerra, come un qualcosa di veramente brutto, di veramente sudicio e non un qualcosa, una lotta quasi eterea, pulita al di sopra di tutto. Si, viene meno quell'immagine, se vuoi, cavallerisca, no? Esatto, bravissimo, bravissimo. Da samurai praticamente. Da codice buscino. Compare invece con questa anche complessività delle relazioni, questi dubbi, questo orrore rispetto alla sporcizia della guerra e alle sue conseguenze. E in effetti lì, diciamo, da una parte il Gundam, per cui praticamente i mobile suite della federazione terrestre, e anche qui avevamo una federazione, diciamo, e gli antagonisti del Principato di Zeon, che praticamente erano… venivano utilizzati come delle tutte potenziate, un po' grosse, per l'amor del cielo, però erano in effetti delle tutte potenziate a tutti gli effetti. Eh sì, con la promessa, appunto, di riapprofondire l'argomento, perché Gundam ha avuto più incarnazioni, ognuna con una particolarità diversa. Poi forse è un altro argomento da team up, se vogliamo. Sì, sì, assolutamente sì, direi che… anche da più team up, Paolo, perché secondo me Gundam è veramente complesso e fondamentale, sia dal punto di vista fantascientifico che poi quello, diciamo, del campo degli anime a questo punto. Dobbiamo dire che a partire dalla fanteria dello spazio, no, ci siamo veramente esaltati. Sì, sì, sì. Io ho citato qualcosa come se io ho sette serie di dimensioni megagalattiche, e a voi sta venendo la voglia di fare moltissime puntate. Come dire, Max, altro che carne al fuoco, qui siamo una grigliata mista, per intenderci. Ma poi, voglio dire, tra l'altro, se vogliamo c'è anche lo spazio dei commenti aperto a ulteriori suggestioni, ecco. Ah, certo, naturalmente. Sbizzarritevi perché… Sbizzarritevi perché… Sbizzarritevi dai nostri ascoltatori che appunto raccolgano e rilancino questi suggerimenti e ci portino anche qualche altra idea, no? Anche per noi ragazzi dobbiamo dire che abbiamo l'onore di avere un pubblico che è estremamente attento, partecipe… Accidenti, sì. Per amore del cielo, su di questo veramente d'alto livello. A questo punto, Paolo, io direi che possiamo già dare a questo punto i nostri contatti, direi, in conclusione. Sì. Allora, il sito internet www.fantascientificas.it dove lo potete lasciare in vostri commenti o scriverci direttamente, oppure potete farlo tramite l'indirizzo email info-fantascientificas.it e poi ci sono i consueti canali Twitter, Facebook e non dimenticatevi, se siete utenti iTunes, di passare da quelle parti e lasciare magari un vostro commento al nostro programma. Vi ringraziamo perché veramente gli ascolti e la partecipazione per il nostro podcast sono in continuo aumento e noi apprezziamo veramente la vostra… come dire… Oddio, un lapsus, non mi viene in mente una parola adatta. Max, aiutami tu. Eh, l'ha appunto. Gratitudine. L'hai detto bene, partecipazione, che cosa c'è di più bello? No, abbiamo un contributo che stiamo avendo, la partecipazione soprattutto attiva, no? Di ascoltatori che poi commentano, rilanciano, magari anche correggono qualche volta, no? Che è sicuramente una delle cose più gradite per chi fa questi esperimenti. La nostra fanta community, no? La chiamiamola così. Mi piace molto come termine. E concludiamo così, anzi, ricordandomi magari di fare anche un salto sul podcast, diciamo, padre di questo che è Scientificast, www.scientificast.it, trovate i riferimenti nella pagina dei link, ovviamente, sul nostro sito. Vi rimandiamo al prossimo episodio che sarà tra due settimane esatte. Quindi, grazie per l'attenzione. Spero abbiate apprezzato questo podcast e arrivederci. Ciao. Ciao. Ciao.